Quando arrivo in bicicletta mi sento bene, a parte la fatica, magari nelle ore più calde, nelle giornate più calde, in cui ovviamente il sudore non manca, però la cosa bella è che ti senti fresco, paradossalmente nonostante la faticata ti senti bene e ti senti anche bene con te stesso, rilassato, sfoghi la rabbia soprattutto. La sensazione che poi uno prova perché poi si riscopre anche la città e soprattutto si capiscono anche le vere distanze, perché molto spesso magari uno si muove in macchina e non capisce poi che sia le tempistiche che anche poi la fatica, uno pensa a Roma come salite e discese quando in realtà poi si scopre che ci sono delle strade alternative, magari più lunghe, che però ti fanno apprezzare la città, io per esempio passo per il laghetto dell'Ocean da Palasport, quindi in realtà a lungo rispetto al tragetto che farei normalmente con la macchina o con l'autobus, ma passo per tutta una serie di aree verdi, laghetto, che ti sembra di stare in nord Europa in certe occasioni, in senso non sembra neanche in Roma, perché soprattutto in primavera con tutte le famiglie che passeggio, insomma è una meraviglia, quindi in realtà consiglierei sia per, ovviamente per una questione ambientale, sia perché si riscopre la città, ma soprattutto si riduce lo stress, perché io ogni volta che prendo la macchina poi sono più stressato di quando prendo la bici, per cui assolutamente si riduce lo stress. Il motivo per cui mi sposto in bici, vabbè, oltre ad essere un appassionato perché poi mi sposto in bici anche in altre occasioni, per il fine settimana o semplicemente per muovermi all'interno della città, per una questione di sostenibilità anche, ma in realtà la motivazione per cui ho deciso di, o meglio anche la scelta della bicicletta che ho fatto, ovvero quella pieghevole e di conseguenza me la carico in metro, è stata soprattutto che mi ero stufato di aspettare l'autobus tutto qua, per cui ho deciso di optare per la bicicletta che ti dava una maggior sicurezza anche di tempistiche e soprattutto ovviamente uno si muove anche fattività fisica, quindi in realtà ho unito il piacere anche a, come posso dire, alla praticità, ecco, perché appunto mi ha permesso di arrivare puntuale in ufficio. Qui nell'area biciclette sarebbe utile forse un piccolo kit, ci sono questi kit per i ciclisti per magari si smonta una cosa, delle piccole chiavi oppure una pompa per gonfiare le ruote se magari sono a terra, dei piccoli kit di soccorso da utilizzare per i ciclisti che vengono in ufficio.